Buongiorno a tutti Più easy Che spettacolo raga Guardate che meraviglia Aspettate Non leggermente più easy Gli ultimi li sta creando più facili Tipo una cosa del genere E vediamo un po' raga Allora c'è che ce lo indica là sopra Come facciamo ad andare lì? Ah mi sa che tolza un po' il volume Aspettate un attimo Tanto ci abbiamo tutto il tempo a disposizione Ok perfetto Allora Bella Luke Osserviamo tutto il trollbox Allora là si può fare un wallride Sì sì Ti saluta Fluky Ha detto sei scarsino Lo so È proprio scarsino lui Allora Qua abbiamo un turbo No? Bonnie spostate Qui Di Eh raga cortesemente Grazie 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 mille Molto gentile Ce l'ha fatta? Allora Andiamo 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 un po' se è così Zitti 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 No raga Come facciamo a prendere quel check Allora Ragioniamo un attimo Suino che sta a combinarla Andiamo un po' per di qua Raga infatti Oh C'è un turbo Raga qui Forse Ci da una mano Aspettate 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 Venite Dove Bonnie? No no Aspettate Voglio provare una cosa Perché qua c'è il turbo Vediamo un po' Raga se va bene La velocità c'è Però non credo Raga è questo Abbiamo preso il check Spettacolare Aspettate che glielo scrivo Teoricamente Possiamo andare da qui Fino all'orda Lo legge Ci proviamo un attimo Eh no raga Da qua non si può Quindi Vediamo un attimo Allora Là si può fare Wall raid Credo anche da questa parte Eh là c'è una rampetta Perfetto Perfetto Dove siete? Come Mirko Aspettate un attimo Facciamo prima questa parte È difficile spiegare Cioè quando uno trova la via Come Come gliela spiego Perché è un trollbox alla fine Qua basta semplicemente Fare così No? Vediamo Sì 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 Perfetto Raga Questo check super easy Meno male Però l'unico problema Di GR77 È che mette 8000 troll In un trollbox Per andare di là Basta semplicemente Andare di qua Raga Aspettate Hanno capito Io glielo ho detto A destra Allora Qua basta solamente Saltare dritti Non so sì Porchita l'indo stava Non so se ha preso il check Ok E fino a qua Ci siamo Raga Scendiamo qui Dobbiamo ancora imparare Tutto il trollbox Che sta a combinar Ah Luke E qua Proviamo Nono sui Non metto la corte Se avete fambe Concentra Ok Allora Ci dobbiamo ricordare Pure una cosa Perché GR usa tantissimo I pezzi Glitchati In pratica I muri Dove si può passare Io li conosco I muri Però sono quelle curve E qua Vedo che sono Tutti pezzi dritti Quindi dobbiamo fare Molta attenzione Ecco Questo No 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 Sui sui Fammi ragione Un attimo Questo qua potrebbe essere Glitchato Raga Perché vedete È tipo una curva No Non ho sbagliato Che pezzo è Poi non lo so Dove siamo Vabbè Intanto dobbiamo capire Tutto il trollbox Raga È normale Ma questo non è Vedete dritto Vediamo se c'è qualcosa Qui Osserviamo bene I muri No Questo è impossibile Che sia glitchato Qua non c'è niente Nessun effetto ottico No Saluto la sezione Caccia e pesca Oh regà Io intanto Do una controllata Scarsino Che sta a combinar Boni Rampa rossa Qui non abbiamo visto Aria C'è un tubo Andiamo qua Aspettate Rampa rossa Ma la rampa Di prima Mirko se devi prendere Il sesto check Vieni Mi fido Dai andiamo da loro Guardali come Prendono i check Qua regà Mi sa che è lui Che ha preso il check Sì sì Però non vedo Maverick Regà Ok ok forse è quello Questo Vediamo un po' Ragazzi No questo è l'age Ok questo è Maverick Dobbiamo scendere giù Dove l'avete trovata Questa parte Glitchata Vorrei sapere Ok Che vuoi l'age Dove sta la parte Glitchata No 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 Raga aspettate Oddio Raga Ma io dico Come l'ha messa bene Sta parte Ma assurdo E mo Mo che devo fare Raga aspettate Aspettate Eh dritto Dritto Dietro 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 per di là Ok ok Quindi dobbiamo scendere qui Ma guardati Però là c'è un altro tubo Raga Là c'è un altro tubo C'è un altro tubo Ok Dopo ci controlliamo Grandissimo Maverick Ok Prendo un po' Di rincorsa Raga Ma io dico Qua dove siamo Non lo so Non mi chiedete niente Ok Ci siamo Ci siamo Grandissimo Maverick Ti ringrazio Saliamo Saliamo Andiamo a prendere Sto check Sta a registrare Sì sì Ok Regà Vediamo un po' Adesso il check Ce lo indica giù Sì sì Ma io Io non lo so Sì sì Aspetta Io rispondo così Ma io devo scrivere Aspettate Ok Regama quel pezzo L'ha messo Talmente bene Che non sembrava La parte curvata Che Che vi ho detto Poco fa E adesso Tubo giallo Sentite Possiamo fare Una cosa Andiamo un attimo Per di qua Vi ricordate La parte Di prima Che è maverick No Non lo so Vedete un attimo qua Che io devo Controllare bene Quel punto Che non abbiamo visto niente Cos'è quella barriera Il muro Glitchato In quella maniera Regà Assurdo Questo vuol dire Che dobbiamo controllare Tutti i muri esistenti Nel troll box Oh Aspettate Quello è il tubo giallo Aspettate Ok Ho dato una mano A maverick Ah regà Ma là c'è un'altra via Aspettate 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 Ok Maverick L'abbiamo aiutato Che c'è sta qua Ok Poi dobbiamo Che cos'è Che cos'è qua Regà Aspettate No Qua non entra Ma Scusate un attimo Questo non è il punto Di prima Sì Qua c'è la parte rossa Regà De niente Sui Sì Questo è quello Regà C'è la doppia via Però qua cosa si può fare C'è che del tele Ah Adesso dobbiamo andare In questo tubo Qua Questo tubo qui Che è Porchino Ma come è possibile Che tu Sei entrato Da questa parte Ah Ho capito E troll Sapete qual è questo tubo Quello che vi stavo dicendo Poco fa Eh non c'è niente In pratica Crecamer Ha trovato qualcosa Io invece stavo esplorando Un attimo Guarda Ma io ancora Sono rimasto Stranito Da quel muro Glitchato Comunque Là Passiamo Qua è Dove sta la rampetta Sì Qua c'è un'altra via Aspettate che Controlliamo pure Prima facciamo Questa rampetta Oh Veloce XA21 Dai XA21 No No Eramo messi al contrario Ah Ci portava In un tubo Blu Regà Interessante Il tubo blu Erai spawnate Al centro Ok Cos'ha trovato Maverick No no Sbagliato Che hai trovato Su Ehi Ehi Che sto raduno Qua Ah Una bella Vietta Qua Oh regà Noi abbiamo da controllare Pure un'altra via Che era glitchato No non era glitchato Quella via Quando stavamo Messi di lato Qua che c'è Oh piano piano No Questo tubo No no Questo tubo è nuovo Che sta di Sì Grandissimo Maverick Grande Allora Mi serve In ogni trollbox Se magari XA21 Te rimetti bene Grazie mille Andiamo andiamo Porchidari Un po' trollato Oggi No no Porchidari sta avanti Cioè stiamo tutti vicini E qui Sì Grandissimo Grandissimo Ok Oh guardate dove Ci indica il check Aspetta Dov'ha maverick No 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 Vabbè Vado Ah no no Stanno andando nello stesso punto mio Questa di Mi confondo troppo Regà Però da quale lato Ci dobbiamo mettere Perché poco fa abbiamo sbagliato Riproviamo lo stesso lato Eh sì Ok Andiamoci in giù così Oh Lerga Andiamo per di qua Ok Muro glitchato No Qui cosa abbiamo Una parte Quella è da provare Regà Ricordiamocelo Muro glitchato Non credo Super bianco E qui Qui abbiamo visto Vediamo Regà Magari c'è una vietta Dai XA21 Perché oggi Non vuole camminare Forse dobbiamo andare così No Sembrerebbe Che non c'è niente Regà Tant'altro massimo Poi ricontrolliamo Trova Maverick Oh Questo potrebbe essere Muro glitchato Ho fatto il primo check Grandissimo Sui Qua c'è un'altra via No Qui è chiuso Non è chiuso Regà Venite in mezzo Aspetta sui Che io sto da una parte Tubo rosa Potrebbe essere interessante Dietro c'è qualcosa No Regà Aspettate Aspettate Interessante Questa via Mirko Arriva 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 Non c'è nada Qui Non c'è niente Regà E Respawniamo Do sta Maverick Regà Io non vedo Non vedo Maverick Di qua Segui Ok Andiamo Vediamo Regà Ah Eccolo Il primero Da questa parte Sui Ci siamo persi Qualcosa qua Possibile Sicuramente Sicuramente Sì O è semplicemente Giù Regà Potrebbe Mamma mia Che casino Qua Ok Ci siamo Dove Sui Ah No So Cascato Regà Ok Regà Eh No 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 Regà Ma tutti Io ce l'ho Sti Tremendi Ok Finalmente Regà Ci siamo E adesso Siamo giù Per uscire da qua Come facciamo Check del teletrasporto Quanto manca Regà La fine 15 Check Su 20 Per andare Lì Aspettate Regà Forse ho capito Forse ho capito Credo di aver capito Dove eravamo andati Regà Che non mi ricordo più Di qua Esatto Sì Aspettate Aspettate No Di qua Sì Sì Ah Ho messo pure il turbo O un'altra parte Questa Regà Vedete Il check Sta qui Regà Cosa ho visto Cosa ho visto Questo è un muro Glicciato Dimmi Dimmi Mamma mia Regà Non ci voglio Crede Non ci voglio Crede Non ci voglio Crede Stavo tutto Via via Maverick Aspettate Dove si va Mirko Boni Mannaggia Te dovevi Veni subito Io voglio provare Giù Regà Perché Abbiamo capito Come si va giù Credo Di sia Che c'è Che siete Amaricama È quasi Finito Una challenge È 45 minuti Ma non ce la faremo Mai Credo C'è una paura Ok Quindi Dobbiamo andare Per di là Vediamo un po' Regà Maverick Dove Eccolo Eccolo Porchi Te l'ha preso Il check Non lo so Se l'ha preso Ma mi sa De sia Ok Andiamo per di qua E poi per di qua Vediamo un po' La non si può andare Ah no Su ci dice Se no questo tubo Come si fa Andare nell'altro piano Come abbiamo fatto poco fa Con il check del teletrasporto Allora Io sono sceso giù Dal tubo Giallo e nero Regà E il check Ce lo indica Esattamente Qua sopra Quindi Ma questa non è la parte giù C'è una parte più su Regà Non lo so Non lo so Continuo a cercare Ok Regà Proviamo questi qua Questo dovrebbe essere glitchato Sì Eccolo l'ha Il check Però non possiamo più uscire Una volta entrati da qua Là c'è un tubo No Mettiamo un attimo No no Aspettate Tom mi è arrivato pure Io non vedo niente Regà Mi sa che là c'è un'altra parte Glitchata pure Il tubo bianco Ci serve Sì sì Tubo bianco Regà Tubo rosa No Aspettate Regà Io riprovo un attimo qua Perché Se vi ricordate C'era un'altra via Da scoprire Muro glitchato Ma Scusate un attimo Scusate un attimo Questo dovrebbe essere Glitchato No No regà E' lì da dove si va Eh questo Questo Volevo vedere Andiamo un attimo qua Oh scendi giù Vediamo un po' Che c'è sta qua regà Ok Questa via è nuova Regà Non vedi Interessante Questa via No 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 Sali su XA21 Mamma mia Che XA21 Allora Se andiamo tutto su Andiamo giù No No Perché ha chiuso Regà No Pensate Per un attimo Ci ho creduto Dai Io riprovo un attimo Qua regà Qua dietro Non c'è niente Credo di no Chi è che sta qua Scusate Maverick Au Ah sui C'è sta niente Credo sia vuoto Vedete Regà Perché ha messo Questi Anticheat Mannaccia Ma non è che Deve Un po' Entra da qua No Che peccato Come possiamo fare Voglio vedere un attimo Qua regà Cosa abbiamo di bello Qui Il tubo bianco Il tubo bianco Regà Impossibile che sia questo Come facciamo Ok si può passare Boni Che c'è sta qua E che vorrei Che tubo era Scusate No Ma guardati Regà C'è il check Qua sotto Non c'è modo Vero No Regà L'ha messa a posta Troll Almeno se facciamo così No Come possiamo fare Non c'è nemmeno un dossetto E ho messo tutto bene Qui No Regà Non c'è modo Non c'è modo Di lato Nemmeno Dai Regà Regà Io devo ancora Proverare Sta rampetta Questa Non l'abbiamo ancora provata Stavolta Siamo messi pure bene Ok Dove siamo No Non supera tutto Dai Regà Ma perché Oh Ma sono da due all'ora Se non ce la fa Ok Andavo troppo veloce Regà Per questo Che non ce la facevo Ok Qua È una via Giusto Dove ci porterà mai Questa bella via Regà Da nessuna parte Dai Da nessuna parte Regà Niente di glitchato No Regà Niente Un tubo Praticamente inutile Che non si può manco uscire Troll Regà Regà Quelli sono glitchati Allora Quell'accessorio lì Io mi ricordavo Che in un'altra gara Erano glitchati Aspettate un attimo Dove sono Dove sono Dove sono C'è un turbo Ci sei sui Regà Aspettate Aspettate Facciamo venire un attimo Maverick E andiamo insieme Eccolo 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 Regà Vieni 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 sui Andiamo Maverick Regà Mi dispiace Per gli altri Però è stra difficile Dire le vie a tutti Sta arrivando Immaginate Non è questa la via Però no C'era la base Regà C'è qualcosa serve Questa via Magari per il diciottesimo Check Per il ventesimo No Eccolo Eccolo Andiamo Regà Sono troppo contento Ok Ok Osserviamo dietro No Non c'è niente Ma io dico Che gari Che reagisce Ieri Scendiamo giù Ok Abbiamo due vie Qua sui Aspetta un attimo Che controllo No Andiamo 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 Per di qua Dopo ci andiamo Per di larga Magari serve Per un altro troll Ci sei sui Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Regà Vediamo Un po' No Non è il tubo Bianco Quella parte Potrebbe essere Glicciata Oh Aspettate un attimo Da qua Lo prende Il check Ah Regà Abbiamo preso Il check Ma non è che Abbiamo citato Perché non siamo Entrati nel tubo Bianco E adesso Pure io Respawniamo Respawniamo Dove sta L'altro check Ma non si poteva Entrare Ah Il check Del teletrasporto E mo c'è Il traguardo Aspettate Si conclude Così Sicuro No No Regà Aspettate un attimo No sui Come si conclude Adesso Ah Nella stessa maniera Di prima O è chiuso Là No Ok 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 Ho capito Perfetto Andiamo qui E non è chiuso Ok Immaginate C'è un muro invisibile Qua Aspettiamo un attimo Maverick Ok Riga Arrivato Arrivato Maverick Andiamo insieme Andiamo insieme Tutte e due Siamo aiutati Dai Sui Ma regali a me No no Sui Dai regala a te Che vai Aspettate Facciamo una finta Vediamo se riesco a passare Di qua Aspettate Non mi conclude Verdi qua Io aspetto Ok Ok Allora vado Mamma mia Che trollbox Ragazzi Troppo estretto Comunque sia Trollbox Spettacolare Se vi è piaciuto Questo trollbox Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Ovviamente Ringrazio pure Tutti gli altri Che ci siamo dati Una mano a vicenda E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella Ciao